Migliori in campo Lanza Varriale, i vecchi Lions contro gli Atleti Cominca Tanto Passano le ottavie finali, i vecchi Lions e i due migliori in campo svengono qui dalla stanchezza decisivi per l'incontro Ragazzi, com'è andato l'incontro? Come dite? Buono, buono Ci hanno voluto culo Valerio un po' più diplomatico per favore Ci hanno spaccato mazzo Alla fine sempre quelle Aspetta Com'è stata la partita? Comunque c'erano un sacco di assenze Eeeh! La pallina dopo il tempo per il giorno Allora, l'intelligente? No, non gliela posso fare Quanto ci vengono scassi di dare soldi Quanto ci vengono scassi di dare soldi Valerio, hai fatto tre gol No, mi devi dare ora Ma quanti ne sbagliate? No, Giova, Giova, me ne voglio andare dopo, per esempio No, Giova, perché me ne vado prima della partita Ma come so? Vabbè ragazzi, chiudo il collo d'entro, un saluto